Affrontare i temi che riguardano l'anziano affetto da malattie oncologiche ed ematologiche tenendo in considerazione le caratteristiche del paziente che, malgrado l'età avanzata, può essere ancora una persona attiva nella vita familiare e sociale. Si sono confrontati su questo, ma anche su altri aspetti, i medici di medicina generale ed ospedalieri nel corso che si è svolto a Campobasso, un'iniziativa organizzata dall'Unità Operativa Complessa di Oncologia e da quella di ematologia e alla quale hanno partecipato esperti del settore. Le malattie ematologiche, oncologiche e non dell'anziano sono in netto aumento per due motivi, sia per l'aumento dell'aspettativa di vita della popolazione in generale sia per l'affinamento delle possibilità diagnostiche. Il paziente oncoematologico anziano è un paziente che è ancora parte attiva sia della vita sociale che familiare, però allo stesso tempo può essere una persona fragile. Per cui la scelta delle terapie per questi pazienti deve avere un equilibrio tra quella che viene indicata la migliore teramia, la best therapy, e la possibile terapia, la possible therapy. Cioè deve avere un equilibrio e rispettare le criticità del paziente, cioè le sue comorbidità, valutare quella che è la sua aspettanza di vita e soprattutto rispettare la sua qualità di vita. Qual è l'incidenza nel Molise di questo tipo di malattia? Allora abbiamo notato e anche nel nostro reparto che c'è una netta incidenza, ma soprattutto per questi motivi che abbiamo già indicato, per l'aumento della sopravvivenza media della popolazione e anche, dobbiamo ammetterlo, per un aumento anche delle possibilità diagnostiche che oggi nella nostra regione sono possibili quotidianamente. Quindi si può essere fiduciosi e ottimisti? Io penso soprattutto di sì, perché l'anziano oggi è una persona che può essere curata con le migliori terapie, logicamente rispettando queste caratteristiche, cioè rispettando le comorbidità e soprattutto valutando quella che è la sua possibilità di vita, quindi la sua aspettativa e un rispetto assoluto della sua qualità di vita.